Hai fatto un ottimo lavoro nell'attacco a Ejinhao, Obi-Wan, ma le loro armi avrebbero potuto sopraffarti. Il maestro Sisi Tiin ha accettato di allenarsi con te. Da lui potrai imparare moltissimo. Salute, Padawan. Maestro. Avevi paura quando i Jinhao hanno attaccato. Le tue armi non ti avrebbero salvato. No, io... Hai sentito la paura? Non sono sicuro. Tu la sentirai ancora e ancora. Cominciamo. Padawan. 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 La tua abilità con la spada è impressionante. La forza è davvero potente in te, giovane Obi-Wan. Ma fai attenzione. Padawan. 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 Padawan! Padawan. 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 Ucciditelo, Jamie! Ucciditelo, Jamie! Ucciditelo, Jamie! Ucciditelo, Jamie! Attenzione ai cecchini! Ucciditelo, Jamie! Non riuscirai mai a... Ucciditelo, Jamie! 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 Ucciditelo! Ucciditelo, Jamie! Ucciditelo! Ucciditelo! Ucciditelo, Joel! Vieni a scappare, Jenny! Lasciatelo scappare! Vieni a scappare! Vieni a scappare! Vieni a scappare! Sbrighiamoci! Dobbiamo trovare quella nave! Voi prendete il vecchio! Vieni a scappare! 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 No, 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 no. Ah, fettimi, James. Ora portiamo avanti, andiamo. Oh, no, 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 no. Oh, che que che! No, 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 no. Non lo possiamo escapare. Voi prendete il vetro, io mi occupo del ragazzo. Uccidete lo geni! Non saranno sopravvissuti, maestro. No, Padawan. Sento che entrambi gli Jedi sono più vicini. Trova la struttura Jinha e scopri da dove proviene la tecnologia delle loro armi. Possiamo ancora trasformare la sconfitta in vittoria. Maestro, ho trovato l'ingresso in una specie di enorme complesso. Sicuramente è una miniera di cortosis. Scommetto che all'interno c'è qualche tipo di impianto di produzione. Cerca di raccogliere quante più informazioni puoi. Suzie! Sì, non lo so. Sì, è vero! Non lo so, non lo so. Sì, è vero! Sì, è vero! Sì, è vero! Non lasciatelo scappare! 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 scappare! Più scappare! Più scappare! 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 Bloccatelo! scappare! 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 Non lasciatelo scappare! 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 Non lasciate non capire! Maestro, penso di aver trovato la raffineria di Cortosis. Ci sono strani macchine a arrivaggiù. Sembrano dispositivi di sintetizzazione. Ottimo, Padawan. Cerca di portare via uno di questi computer o qualcosa del genere. Li analizzeremo su Coruscant. Torna in superficie, Obi-Wan. Sento che i Jin-Ha sono stanchi delle nostre investigazioni. Sto per farmi a pensar in te, Jenny. No, 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 no! Grazie a tutti. Non riuscirai mai a scappare, geni. Uccidetelo, geni. Bloccatelo. Non riuscirai mai a scappare. Non riuscirai mai a scappare. Sto per farmi a pizzettini, geni. Bloccatelo, geni. Non riuscirai mai a scappare. 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 Non lasciatelo scappare! 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 Maestro, ho disattivato il campo di forza! Stiamo arrivando! Un tempismo perfetto! Grazie a tutti. Hai bisogno di aiuto, Obi-Wan? No, Obi-Wan! No, Obi-Wan! No, Obi-Wan! No, Obi-Wan! Una cannoniera della federazione. Beh, e cosa ci fa qui? Non lo so. Non lo so. Ottimo lavoro! Tutti! I Jin-Ha usano davvero una tecnologia al di là della loro possibilità per produrre armi particolarmente efficaci contro i Cavalieri Jedi. Le implicazioni sono al di poco preoccupanti. Durante la nostra prigionia, io e il Maestro Kot, abbiamo visto una grande struttura di produzione, oltre alla miniera di Cortosis scoperta dal giovane Obi-Wan. Dei Jin-Ha si occuperà direttamente il consiglio. Ti ringraziamo, Obi-Wan, e riconosciamo il tuo coraggio e la tua risoluzione. Ora, però, recati all'arena di addestramento dove riceverai l'addestramento per la tua prossima missione. Ti sei comportato benissimo nel combattimento contro i Jin-Ha, Obi-Wan. Il mio vecchio amico Maestro Plo Koon ha consentito ad addestrarti. È un esperto della spada, ma è un insegnante spietato. Sarà meglio che i tuoi movimenti con la spada migliorino in fretta. Impara, Parwan. La tua spada un giorno potrebbe salvarti la vita. Di fatto, Obi-Wan. Il tuo addestramento procede molto bene Ora vedo che il tuo maestro non scherzava quando diceva che stava addestrando il mio sostituto La forza è potente in te, giovane Kenobi Non è cosa da poco sconfiggere un maestro Jedi in combattimento